Lavori per la Basilica del Volto Santo di Manopello, la Regione annuncia lo stanziamento di fondi per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2007-2013 e l'avvio, in tempi brevissimi, dei lavori che da tanto tempo attendevano fedeli e religiosi. Abbiamo potuto recuperare questa economia che è stata subito dedicata per l'idoneità del Volto Santo. Parliamo sempre della struttura alberghiera. Ma accanto a questo investimento che è stato sottoposto a idonea procedura per quanto riguarda l'avviso pubblico, la commissione pubblica della gara, perché c'è stata una vera e propria gara d'appalto, noi adesso dobbiamo pensare anche ad un vero e proprio master plan riguardante questo sito religioso e altri siti religiosi di valore dell'Abruzzo, poiché l'Abruzzo merita una collocazione turistico-culturale e religiosa. Nell'anno del Giubileo l'Abruzzo si è trovato a dover fare i conti con le difficoltà di un turismo che stenta a spiccare il volo e l'assenza di interventi capaci di offrire una ricettività più al passo con i tempi. Ma l'opera di miglioramento si apre con quello che per molti è uno dei simboli più importanti del turismo religioso della nostra regione. Sarà possibile per qualche pellegrino interessato fermarsi di più sul posto e godere di questo ambiente di spiritualità. Oggi qual è l'utenza? Quali sono le cifre che ruotano intorno a un luogo così importante per l'Abruzzo? Soprattutto dopo la visita di Papa Benedetto XVI c'è stata un'attenzione molto elevata. Secondo lei nell'anno del Giubileo è cambiato qualcosa in Abruzzo come presenze e anche come arrivi oppure non è molto percepito? Al momento forse non molto, il movimento è più locale da parte delle parrocchie vicine, ma ci si aspetta che qualche movimento accada.